Dobbiamo chiudere con una sorpresa per te, perché mi ha telefonato una bravissima conduttrice di una importante trasmissione di Rai 1 che partirà tra poco e guardate che cosa mi ha inviato. Anzi, più che a me, a te in realtà. Vediamo. Bianca, Valerio, che onore essere qui con voi. Amici di Rai 3, voi forse già conoscete la notizia dell'anno, che è quello che per la prima volta nella storia della televisione un grande scienziato si occuperà di ballo e ballerà raccontandoci la scienza. E sarà proprio Valerio, il vostro, il nostro Valerio. Allora Valerio ti aspettiamo, ma ti dirò di più. Puoi sapere chi sia la tua maestra? Eccola, la super campionessa Sara di Laira! Ballando con le stelle, io e te, al ritmo del tuo cuore con te. Non abbiamo il pubblico, l'applauso io, eh! Allora Sara di Veyra, professore. Alla destra di Valerio Rossi Albertini, spiegateci cosa succederà tra poco. Allora, cosa succederà? A ballando con le stelle. Emilio Carlucci mi ha cortesemente invitato a fare una cosa che è assolutamente fuori degli schemi. Andare a parlare di scienza in un programma che è soprattutto di intrattenimento. Però, come già abbiamo fatto qui da voi in una trasmissione che è un talk show politico... E continueremo a fare? Continueremo a fare. Abbiamo visto che la scienza funziona, la scienza interessa. E in questo periodo di scienza c'è un gran bisogno, come sappiamo. Per me è un grandissimo... Ecco, ma Sara di Veyra, quindi scusami, non sarà la tua maestra? Sarà la mia maestra e la mia partner, mi immagino. Quindi ballerete insieme. Quindi in realtà ci scambiamo i ruoli, perché lui sarà il mio professore. Perché io a scuola ho fatto solamente chimica, quindi alzo le mani e spero di colmare la mia lacuna attraverso... Il professore sarà veramente un viaggio interessante, perché parleremo della danza attraverso il linguaggio fisico e delle emozioni attraverso il linguaggio... Ecco, ma parlerete della danza e danzerete pure, cioè... Tu sai ballare e dovremo... Ma lei lo sai ballare, intanto. Perché io no, non sono un ballerino, perché tradizionalmente mi sono occupato di altre arti, però in questo caso cercherò di conciliare appunto la prova atletica, che non è certamente per me, piuttosto con un format specifico per la trasmissione in cui si parlerà di scienza. Quindi sarà un format, diciamo, ancora tutto da scoprire. Vedremo, domani iniziamo. Domani ci incontreremo per la prima volta. Ah, domani cominciate la lezione. Esattamente. Bene, e allora ricordiamo anche da quando andrà in onda, sul Rai 1, ballando con le stelle. Sul Rai 1, il 16 ottobre, intorno alle 21.15 di solito. Quindi vi aspettiamo, perché sarà veramente un'edizione esilarante. Non possiamo anticipare niente, Millie, promesso, non dico niente. No, anche perché è stata Millie a chiamarmi e dirmi, guarda, allora, sapevamo, io l'avevo sentita questa indiscrezione, gliel'avevo già detto, ma è vero che quest'anno ci sarà anche una partecipazione di Valerio Rossi Albertini a Ballando con le stelle, però confermata con una maestra, io sono un'estimatrice della trasmissione. So, lo so, Bianca, che sei veramente un'altra parte. Mia figlia era piccola, che la seguiva, adesso la seguo da sola, senza mia figlia, che è cresciuta. E quindi, diciamo, se ne va per conto sua la sera, però sono una fedele ascoltatrice e telespettatrice di Ballando con le stelle.